Ti sei mai chiesto se i locali del programma TV 4 ristoranti sono davvero buoni? Sono andato a Catania a provare un ristorante che ha partecipato Tra l'altro all'interno puoi mangiare su un'altalena Ho iniziato con quelle polpettine di bullet con la maionese al pistacchio Ho preso un burger di quattro piani Colata di cheddar spaventosa ma a gusto incredibile Ho proseguito con questa spada di carne bestiale Che fa il dolcino e alla fine non lo prendi? Tagga due amici nei commenti Perché scelgo tre persone che vengono con me a mangiare Che ovviamente offro io Grazie a tutti